Lezione 12 Stare venendo da Isch, Od, Z Che cosa sto facendo? Stai venendo dalla finestra Sto venendo dalla finestra? No, non stai venendo dalla finestra ma stai andando verso la finestra Sto andando alla finestra? No, non stai andando alla finestra ma stai venendo dalla finestra Stare toccando, Od, Ticac Tocca, Docni Che cosa sto facendo? Stai toccando la parete Che cosa sto facendo? Stai toccando l'immagine Tocca la tua cravatta la tua scarpa, la tua gonna per favore Che cosa sta facendo? Sta toccando la sua cravatta La frase Sdanie Che cos'è? E' la frase Parola, Suovo Verbo Cssovnik Usiamo Urshibane Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti